Salve ragazzi, scommetto che a tutti noi è venuta in mente l'idea di giocare i videogiochi a scuola, ma non intendo quelli mobile, chissà quante volte ci abbiamo giocato, ma intendo proprio con i giochi della Playstation o un PC, che è impossibile giocarci a scuola, magari se hai un PC portatile te la potresti cavare, perché ragazzi, non ci crederete mai, ma io una volta ho provato Fortnite a scuola dal PC portatile di un mio amico, mi è andata bene alla fine. Ma oggi guardiamo cosa fanno queste persone pur di giocare a Fortnite a scuola, e alcuni di questi sono pure stati beccati e altri hanno fatto pure vittoria reale, beh, andiamo col video. Numero 1 In questo video vediamo come questo ragazzo, che probabilmente è in aula informatica, stia a giocare a Fortnite. Tutto tranquillo e felice, e sembra non preoccuparsene se viene un professore e lo becchi. Però una scuola che abbia dei buonissimi PC per giocare a Fortnite è molto particolare, ma buon per questo ragazzo. Beato lui che si può fare la bella partita a Fortnite, mentre io avrei subito beccato se fosse al suo posto. Numero 2 In questo clip possiamo vedere questo ragazzo davvero pazzo, ma direi proprio pazzo, giocare con l'Xbox attaccata alla spina, con lo schermo, le cuffie e il joystick. Insomma, tutto per una buona partita a Fortnite, in una classe poi. Questo ragazzo sembra ignaro dei pericoli che corre, dato che se entra un professore è finita per lui. Non è come giocare a Fortnite mobile oppure giocarci da un PC portatile e ti puoi subito metterlo via. No, lui sta giocando proprio dall'Xbox, se entra il professore ormai è finita, non può neanche ritirare. Ma la sfortuna di questo ragazzo è molto alta, una professoressa entra e lo becca e lui inventa subito la scusa di star facendo una ricerca, però fare una ricerca sull'Xbox sembra un po' particolare. Beh, insomma, alla fine è stato fortunato e non gli ha detto niente. Numero 3. In questo video vediamo questo ragazzo tutto tranquillo con il suo PC giocare a Fortnite, nel bel mezzo della lezione, con il professore che sta spiegando. Evidentemente il professore poteva pensare che prendesse appunti dal PC, se lo vedeva tutto concentrato a guardare lo schermo. Il ragazzo era tutto tranquillo a fare le sue kill, perché qualche chi l'ha fatta, con il joystick sotto al banco, in modo che il professore non lo becchi. Anche una buona furbata. Ed è anche fortunato che si trova proprio in un punto della classe in cui il professore non lo può neanche beccare. Beh, insomma, un buon momento di fortuna per questo ragazzo. Numero 4. In quest'altra clip vediamo come questo ragazzo sia giocare a Fortnite nel suo PC portatile a scuola, in un'aula, anche lui con il controller della Playstation, con tutto intorno a vedere come giocava, e notiamo anche che ha fatto pure qualche kill. Ed è anche un momento di fortuna che non c'erano professori e quindi non potevano beccarlo a giocare a Fortnite. Quindi, beh, ci sta per lui. Si è fatto una bella partita. Numero 5. In questo video vediamo come questo ragazzo stia a giocare sempre a Fortnite a scuola, dal suo PC particolare, un PC tablet, con il joystick, con tutto intorno, a guardare come giocava e a incoraggiarlo a vincere. Ignero di tutto, senza avere la paura che entri il professore e gli mandi all'aria la partita. Ma alla fine è perso questo ragazzo. Ma almeno la partita a Fortnite con i suoi compagni di classe l'ha fatta. Bene, il video finisce qui. Lasciate like se avete giocato a Fortnite a scuola o a qualunque altro gioco. Iscrivetevi, condividete, scrivete un parere nei commenti e alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!